ma quanto è bella la maglia dell'iter senza lo sponsor tanta roba era tutto a posto abbiamo tolto lo sponsor tanto che che si tiene a fare tutto a posto si può togliere come era come era come era e gli arabi non investono nel calcio italiano poi corriere dello sport cosa scrive ci sono dei sauditi interessanti alla roma allora che la roma sia in vendita io amici romani ma c'è bisogno di avere degli amici romani lo sanno tutti e che la roma in vendita commisso lo stesso un miso a firenze costruito il viola park una roba spettacolare andate a vedere date a vedere documentatevi ovviamente su internet e chi non fosse di firenze ma commisso sta lottando da troppo tempo quello stadio lo vuole fare il comune commisso non vuole mettere soldi perché lo stadio deve essere il comune perché fa parte delle belle arti e commisso si è già rotto le scatole in un'intervista in america commisso a fine marzo dichiara quasi espressamente di voler vendere la fiorentina poi in italia lui dice no no per ora non vendo ma sapete benissimo che comunque il gioco delle parti guarda la premier gli americani stanno ormai uscendo dal calcio e stanno entrando loro stanno entrando i sauditi no un po come quando quelli e zona ping pong hanno provato ad entrare nel calcio e poi dopo nato e finito nel giro di qualche anno no quindi di cosa vogliamo ragionare soprattutto te lo dico in un momento dove comunque stiamo andando bene facile dirlo quando si va male dove volevi andare con i cinese questo ti voglio dire sulla partita di ieri l'inter si è ribellata proprio lo vedevi e i giocatori non non accettavano la sconfitta perché sarebbe stata comunque una sconfitta non immeritata di più perché l'inter stava dominando attaccava bene gli spazi trovava bene gli spazi cioè prendi gol su un errore di acerbi io non sono stato ieri tra quelli ha criticato acerbi ho solamente detto che c'è stato uno che ha detto che disse nel suo video di 47 minuti mentre ti canta la messa mattutina aveva detto che confido nella voglia di rivalza di acerbi lui parla e acerbi fa la prima partita disastrosa del campionato io ho detto quello ma poi anche se avessi criticato aspramente acerbi c'è fatemi capire qui viene criticato lautaro lukaku non si può criticare acerbi cioè fatemi capire come funziona quali quali sono le regole del giochino fatemi capire non parlo a voi ovviamente fanno in generale se uno gioca male giusto e si è ritirato è giusto e venga ritirato dov'è il problema acerbi non so ha cambiato scarpe non lo so stava giocando una scuola senza tacchetti acerbi disastroso ieri te lo dico io anche se non l'ho detto ieri lo dico oggi una scerbi disastroso dov'è il problema è sempre stato uno dei migliori ho capito ma io devo io devo guardare l'ultima partita la partita di ieri a scerbi è stato disastroso come vessino della lazio ma di cosa puoi ragionare dov'è il problema perché non si può dire chi è che lo decide che non si può dire se che dicevi che gli arabi non investono nel calcio italiano lo vedremo ragazzi io ve lo dico danilo d'ambroso d'ambrosi un professionista che io stimo tantissimo l'ho sempre detto braccetto difensivo lui non può giocare è improponibile danilo d'ambroso il braccetto difensivo è improponibile lo devi usare per far rifiutare i due esterni da darmian o d'anfris o di marco o cose basta centrale braccetto difensivo danilo d'ambroso non può giocare a perché o gioca d'anticipo sul difensore e quindi parte prima e gliela toglie perché se un difensore si gira soprattutto se è veloce d'ambroso l'hai visto ieri prende cinque metri nello scatto non ha nel posizionamento e nello scatto per fare e nell'intelligenza tattica per fare quel ruolo lì danilo è un ottimo esterno può giocare sia a destra che a sinistra perché fu preso dal torino era il capitano del torino era l'esterno sinistro del torino e l'inter lo prese l'ha fatto giocare lo fece giocare a destra quindi lui a tutte e due piedi destra sinistra molto bravo nei colpi di testa si può spingere in avanti ma braccetto difensivo danilo d'ambroso non può giocare totalmente diverso per darmian per chi diceva che simoicello sarebbe tato darmian braccetto difensivo no perché con parrucca in nazionale con conte doveva già giocato braccetto difensivo con borucci e chiennini è giusto ricordarle certe cose perché bisogna essere ragazzi cioè bisogna dire non essere onesti barella grandissima partita molto bene brosovic il ballerino io cioè ragazzi cioè io non ce l'ho pure il ballerino ma quando quest'estate parecchi tifosi dell'inter pensavano di aver preso a guerra io io mi sono preso tanti di quegli insulti quando dicevo prendiamo turam rotto ma questo vi lasciamolo alla lazio e stessa cosa dicevo di gosens che tra l'altro apro una parentesi su gosens in un anno e mezzo di inter ieri gosens ha fatto la migliore cosa da quando è arrivato e tra fa gol purtroppo si fa male spalla russata della stacca una vincita di giorni ma cosa si è ripa la migliore cosa in un anno e mezzo da quando è lì sul ballerino poi vedi anche sfortunato perché sul gol lui fa un grande movimento sul gol lui attacca lo spazio in maniera veramente c'è ottima gli annullano il codice annullano il gol amiche italiane sbagli lui dopo sbaglia un passaggio non lo so sbaglia un cross e la buttata nella terrazza della signora dove l'ha buttato per cross e si butta giù o incominciano i primi fischi perché io ho sentito lo fischiano e lui ragazzi ballerino è così un giocatore da otto dieci milioni purtroppo è questo e questa coppia lucar con correa difficilmente ha funzionato se non in una partita la coppia titolare ora indipendentemente dal turnover che ha fatto in zaghi che può essere servito con dei danni però perché ci sono stati dei danni è mentre lui ha fatto il turnover soprattutto il campionato può essere servita magari a far entrare in forma il parco attaccanti diciamo sì perché ballerino in forma non entra mai ma oggi deve giocare lukaku e lautaro martinez anche perché lukaku con correa non rende e ti dirò di più non è più la lula di di parrucca di quando c'era conte questa è una lula differente c'è un lautaro martinez che è molto più leader di due anni fa e sembra quasi che si pestino i piedi in determinate circostanze te lo ripeto la scena del rigore lukaku va a battere il rigore lautaro prende la palla e va a tirare lukaku si gira verso la panchina cose non sarebbero mai successe tre anni fa giusto lukaku poi non ha una squadra che gioca per sé come un parrucca cioè il gioco dell'inter è improntato per un 80 per cento tutto sul lukaku e poi aveva una grandissima spalla come lautaro martinez no lukaku in questa squadra qua ieri secondo me è stata la migliore partita forse del 2009 sicuramente la migliore partita di lukaku del 2023 perché non avendo né peggio lascia perdere i giapponesi lascia dove volevi andare con il cinese lascia perdere il belgio perché tanto me lo diano è mai per il belgio un altro discorso c'ha dei fenomeni dietro anche lì nel belgio c'ha c'ha quattro cinque fenomeni tra un certo campo e tre quarti che in spesso guarda i gol che fa il nazionale lukaku spesso deve appoggiare solo la palla in rete è un gioco diverso ma anche lì tutti i fenomeni diciamo tutti quelli con i piedi buoni giorno per lui giorno per fargli fare i gol nell'inter è diverso non ci sono tutti quei piedi buoni che sono nel belgio che ne beggio prendano palla tic tac tu boom verticalizzano vb cross ma precisi noi rosse vanno nel fiume come si fanno noi o vanno a rompere i finestini delle macchine parcheggiate fuori sanzino te la fa breve inutile girarci intorno lukaku tecnicamente l'è quello che l'è c'è un allenatore che gioca tanto di preseggi e non gioca solo su di lui se lui vuole rendere vai a riprenderti il video che ha fatto un coglione come me questo inizio dell'estate occhio perché i zaghi non è parrucca ho scritto a lukaku stai attento perché tattivamente non potrai avere tutti i benefici che avevi con conte lukaku perché i zaghi non gioca tutto su di te se il belga vuole fare una bella figura in quest'inter te la metto proprio guarda chiara chiara spiccia spiccia deve giocare da gregario come ha fatto ieri sponde deve dare una mano deve venire più dietro non può fare il leader d'attacco lukaku in questa squadra e come gioca l'inter e per i giocatori che ha l'inter non per nulla lui ieri gioca in maniera molto umile ed è secondo me con barella il migliore in campo è così che deve giocare lukaku ma è anche così che deve giocare l'inter davanti da oggi in poi lukaku lontaro martinez lukaku lontaro martinez mancano 10 partite di cosa vogliamo ragionare lukaku lontaro martinez basta basta ma se lukaku che secondo me non rimarrà l'inter perché non verrà riscattato ovviamente capisce che non può più fare quelle facevano conte e nemmeno quello che fa in nazionale ma se capisce deve giocare in maniera più umile come ha fatto ieri allora sì che lukaku in una partita può dare tanto ma se sta lì aspetta le palle aspetta i ross aspetta le verticalizzazioni ciao mamma e non la struscia schiacciato alla porta spazi stretti non la struscia deve tornare dietro fare le sponde spostarsi sulla fascia allora sì allora sì e sembra che ieri lo abbia capito alla fine del primo tempo nella chat potete chiedere ai ragazzi che scriveranno nei commenti sotto i video quando rischiamo di prendere il secondo gol sempre per errore di acebio detto questo è un segnale ottimo questi sono segnali ottimi nel calcio questa partita non la perderemo ed è giusto sì perché l'inter si è proprio ribellata alla sconfitta è un inter che a livello atletico va a miglia all'ora e casca a faciolo questa condizione fisica mi apisci l'inter ha tanta condizione fisica ora soprattutto per le ultime dieci partite che sono tutte da dentro fuori ma di cosa vogliamo ragionare ma è questo quello che secondo me i zaghi dovrebbe fare poi siamo tutti bravi dalla poltrona basta con i gio delle coppie lukaku lautaro martinez lukaku lautaro martinez basta poi magari il campionato e ne so con esempio vinci 2 a 0 sessantesimo lo togli ma la coppia titolare deve essere lautaro lukaku lautaro lukaku anche perché ripeto il leader d'attacco ormai diventato e lautaro martinez non è lukaku cioè la gente allo stadio invocava lautaro martinez cioè è lui il leader d'attacco infatti entra lui e la partita in termini ovviamente di realizzazioni cambia perché la farò martinez è fondamentale molto è più importante di lukaku per questa squadra parliamoci a ragazzi quindi bene c'è una condizione fisica si va a mille bene meno male era l'ora va bene così continuiamo così siamo tutti nella mucchiata per il quarto posto finiamo la stagione i cinesi fa l'ultime passarelle poi fondamenti poi finalmente si toglie dai coglioni e poi vediamo quello che riusciamo a vincere quest'anno e poi ripartiremo più forte di prima cosa vuoi ragionare dove volevi andare con i cinesi spiegamelo a fare a cori mercatino a 0 12 giocatori le comprava il prossimo anno i cinesi cioè 12 giocatori scadenza ma di cosa ragione ciao ciao